Buona giornata a tutti, mi chiamo Stefano Zamagni e vi do il benvenuto a questa lezione che ha per oggetto una riflessione sulla pandemia da Covid-19 e in particolare focalizzerò l'attenzione su due punti. Quali sono le lezioni, i messaggi che questa pandemia ci sta dando e ci lascia in eredità e in secondo luogo quali sono le vie di uscita da una situazione del genere? Comincio dal primo punto. Seneca in una sua famosa frase dice non si esce da una grave crisi allo stesso modo in cui si è entrato, si può uscire migliori o peggiori e questo dipende dalle scelte che le persone che vivono una determinata situazione vanno ad operare. Ecco perché una riflessione dal punto di vista anche economico sulla pandemia è oggi di grande rilevanza, perché a seconda delle scelte che andremo ad operare ci saranno possibilità di uscita migliorative o peggiorative e poiché è in gioco il benessere non solo e non tanto della generazione presente, ma anche di quelli futuri, in particolare di giovani come voi, è veramente urgente prestare attenzione a questa tematica. E allora comincio dal primo punto. Quattro sono le lezioni principali. La prima ha a che vedere con la necessità che tutti abbiamo, tutti, studiosi, imprenditori, politici, uomini della strada, di fare un bagno di umiltà. Perché? Perché dobbiamo sapere che questa pandemia non ci arriva all'improvviso. qualcuno ha usato in maniera impropria la metafora del cigno nero per indicare a chi l'ha usata perché probabilmente non conosce né l'economia né conosce le cose. Perché questa pandemia era stata prevista. E come si era stata prevista? In particolare il bisogno di umiltà è dovuto alla circostanza che nel 1969 in America William Stewart, che era il responsabile della salute pubblica di quel paese, l'omologo sostanzialmente del nostro ministro della sanità, pronunciò di fronte al congresso americano un discorso nel corso del quale ebbe a dire la lotta contro le malattie infettive e virali è stata definitivamente vinta. D'ora in poi non avremo più bisogno di preoccuparci. Risultato che le università di Harvard e le università di Yale, le due più importanti università americane, eliminarono dal programma di studio delle facoltà mediche insegnamenti riguardanti virologia, epidemiologia e via discorrendo. Questo per dire perché è necessario essere più umili. Negli anni passati ci eravamo montati la testa, pensando che il progresso tecnico-scientifico si avrebbe posto al riparo da ogni, diciamo, turbolenza e da ogni conseguenza grave. Ecco allora perché è stato sufficiente un micro, micro, micro organismo a mettere in dubbio tutto questo. La seconda lezione, pure molto importante, è il bisogno che abbiamo di recuperare quella virtù cardinale che è la virtù della prudenza. Voi sapete che la prudenza è una virtù cardinale, sono quattro le virtù cardinale. E Tommaso d'Aquino definì la prudenza lauriga virtutum, che vuol dire lauriga che guida tutte le altre virtù. Ora qui un chiarimento. Purtroppo, per, come dire, scarsità di cultura, nel linguaggio comune si identifica la prudenza con il comportamento di chi ha paura del fifone. Dice, quello è prudente per significare… non è vero niente. Esattamente è vero il contrario. Perché prudenza deriva dal latino providenzia. E in latino providenza significa la capacità di guardare avanti. Quindi l'esempio tipico è quello dell'imprenditore. L'imprenditore è prudente perché ha lo sguardo rivolto al futuro e sulla base di questo prende delle decisioni nel presente. Allora, nel caso di cui stiamo parlando, a cosa è dovuta la mancanza di prudenza? al fatto che nel 2010 lo storico della medicina, un ormai famoso, Quammen, pubblicò 2010 un libro intitolato Spill Over, che ora è tradotto anche in italiano, nel corso del quale dice attenzione che tra non molto scoppierà una pandemia. ovviamente non venne creduto. Poi, nel 2017, Anthony Fauci, che è attualmente il responsabile americano per la salute pubblica, pubblica un rapporto nel quale avverte tutti, in particolare il governo americano, che sarebbe di lì a poco è successa una pandemia, ma ancora una volta nessuno se ne dette per inteso. Infine, settembre 2019, l'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica un rapporto dal titolo World at Risk, che vuol dire il mondo a rischio, nel corso del quale l'organizzazione, che è una delle agenzie delle Nazioni Unite, come sapete, dice, rivolgendosi ai capi di Stato di governo dei paesi aderenti, ammoniva loro di premurarsi, di procacciarsi mascherine, di procacciarsi respiratori, eccetera, posti letto dedicati negli ospedali, perché di lì a poco sarebbe scoppiata una grossa epidemia. Nessun paese, nessuno, quindi compresi il nostro, dei politici, capi di Stato e di governo, ritenne di assecondare questo avvertimento. Il risultato è che quando in Italia scoppiata, come voi sapete, a gennaio, fine gennaio e poi soprattutto a febbraio la pandemia, noi eravamo totalmente sprovvisti. Non c'era una sola fabbrica in Italia capace di produrre le mascherine, capace nel senso disposta a produrre mascherine. Quindi abbiamo dovuto cominciare a importarle dalla Cina, dall'India, eccetera, con le conseguenze che potete immaginare. Quindi ecco perché non si può dire che la pandemia è un cigno nero, cioè un evento imprevedibile, perché era stato previsto. Ecco allora perché la lezione è di rimettere in campo la virtù della prudenza. Il vero economista, la vera persona che si occupa di economia pratica al massimo grado la prudenza. Sono gli sciocchi che scommettono e che prendono decisioni avventate senza tenere conto dei dati, in questo caso, che provenivano dal mondo scientifico, eccetera. La terza lezione, infine, è quella che riguarda propriamente una, direi, stortura tipicamente italiana, e cioè la distinzione tra government e governance. Nella lingua italiana noi abbiamo una sola parola, che è governo. Nella lingua inglese le parole sono due. Government è l'ente che dice l'ultima parola, è il soggetto, in altre parole, che si assume la responsabilità di determinate decisioni. In questo caso il governo o la regione, se parliamo di decisioni che afferiscono il livello regionale. La governance, invece, dice del modo di implementazione delle decisioni, del modo cioè in cui quelle decisioni prese vengono attuate. Ebbene, qual è il punto che voi d'ora in poi, guardando al futuro, dovete mai dimenticare? Che non è detto, non sta scritto da nessuna parte, che chi esercita la funzione di government debba anche esercitare la funzione di governance. Questo è l'errore che è stato fatto. Per cui è accaduto che il soggetto di governo ha preteso anche di gestire, fin nei minimi particolari, fin nei minimi particolari, le decisioni prese senza tenere conto della mancata conoscenza delle realtà specifiche, locali e così via. Perché non tutte le regioni, non tutti i luoghi hanno le stesse caratteristiche. Quindi la governance doveva vedere il concorso non soltanto dei soggetti politici e dei tecnici, cioè dire gli scienziati, il che è ovvio, ma si doveva coinvolgere nel processo decisionale anche quelle espressioni della società civile organizzata che noi chiamiamo enti di terzo settore. Pensate al volontariato. In Italia ci sono 6 milioni di volontari, sapete, cioè 6 milioni di persone che sistematicamente praticano azioni volontarie. Pensate alle associazioni di promozione sociale, pensate alle fondazioni e così via. Questi sono soggetti che hanno realizzato buona parte dei servizi, che però non sono stati coinvolti nel momento decisionale, nel momento in cui le decisioni dovevano essere prese. E voi direte, e allora? E allora chi ha preso la decisione le ha prese spesso senza avere l'informazione adeguata. Perché è chiaro che se io sto a Roma, come faccio a sapere, in una certa realtà italiana, e l'Italia è lunga, c'è il nord, il centro, il sud, qual è la situazione di bisogno che in quella località si esprime. Ecco allora la terza lezione che d'ora in poi dovremo imparare. E cioè che il government rappresenta il gruppo di decisione. La governance rappresenta invece tutti quei soggetti che sono chiamati a rendere esecutorie le decisioni prese. Se questo fosse stato fatto, noi avremmo evitato tante morti. Secondo, avremmo evitato di sprecare soldi, perché ovviamente quando si commettono degli errori di questo tipo, i soldi vengono buttati via. Pensate alle rotelle messe ai banchi che 460 milioni che non sono serviti a niente. Anche perché non c'è bisogno di essere esperti pedagogisti per sapere che se in un'aula mettiamo i tavoli a rotelle, i ragazzi delle scuole medie, come potete essere voi, inferiori o superiori, capite subito quello che si mettono a fare. Si mettono a fare l'autoscontro, come si dice in gergo, e così via. Ecco allora questa terza lezione è molto importante che deve, io mi auguro che di questo si faccia tesoro nel futuro. Infine, il quarto messaggio o lezione è quello che riguarda propriamente la disciplina che io professo, cioè l'economia politica. Qual è in altre parole l'insegnamento che questa pandemia ha dato agli economisti in generale? L'insegnamento è che occorre non tanto cambiare la teoria economica precedente, ma bisogna inventarne un'altra, adeguata per situazioni di questo tipo. Perché gli strumenti di teoria economica di cui disponiamo sono adeguati per trattare situazioni normali, quelle che afferiscono il lato della produzione, della distribuzione dei beni e servizi, dei consumi eccetera, ma non per trattare situazioni straordinarie come quella attuale. E ovviamente è la prima volta che è una cosa del genere, perché a conti fatti alla fine saranno passati quasi due anni, a cominciare da febbraio scorso, si pensa che ottobre, novembre prossimo del prossimo anno la pandemia sia terminata. Quindi sostanzialmente sono due anni. E voi capite che situazioni di questo tipo non possono essere affrontate con gli strumenti concettuali e i modelli teorici di cui disponiamo. Voi direte, fammi capire esattamente di che si tratta. Si tratta di questo. Voi sapete, presumo che sappiate cosa sia la frontiera delle possibilità produttive. Cioè dire, se voi sull'asse delle ascisse mettete una variabile e, ad esempio, pane, faccio un esempio comune, sull'asse delle ordinate mettete un altro bene frutta, la frontiera delle possibilità produttive ci dice qual è la quantità massima dell'uno e dell'altro bene che può essere ottenuta, date la conoscenza tecnologica e date le risorse disponibili. E il concetto che emerge, la frontiera essendo una curva discendente da sinistra verso destra concava, ci dà il saggio marginale di trasformazione. Che vuol dire, se io trasferisco un po' di risorse, cioè lavoro, materie prime, da un settore produttivo all'altro, è chiaro che il primo registrerà una diminuzione di output, però il secondo registrerà un aumento. Allora il rapporto tra diminuzione e aumento viene definito saggio marginale di trasformazione. Ora tutto questo funziona quando, come ho detto prima, la situazione è normale. Ma in una situazione come quella di cui stiamo discorrendo è chiaro che la frontiera delle possibilità produttive non rimane immutata nel corso del tempo. Perché se scatta la diffusione, il contagio, persone si ammalano e se si ammalano non possono andare a lavorare. Quindi anche se le conoscenze tecnologiche sono rimaste le stesse, se le fabbriche, esagero un po' per farmi capire, chiudono, è evidente che la possibilità di operare quei trasferimenti di cui ho fatto parola non esiste. In termini geometrici la frontiera, la curva, che è una curva discendente da sinistra verso destra, si abbassa verso l'origine. Quindi il trade-off, che è parola ormai che si usa anche in italiano, ma vuol dire sostanzialmente il saggio marginale di trasformazione, non rimane lo stesso. Ecco allora, e la seconda conseguenza è che in un caso come quello di cui stiamo parlando, non si può stabilire un trade-off tra variabili che appartengono a due ordini diversi. Io posso stabilire un trade-off tra pane e frutta, o mele e pere, come si dice nei testi di microeconomia, perché si tratta di beni, in questo caso beni di consumo, tra i quali è possibile far giocare le preferenze delle persone a riguardo. Ma nel caso di specie, se io metto in ascissa la economia, cioè la possibilità di far funzionare il sistema economico e in ordinata metto invece la salute, con un indicatore che sono ormai quell'istante, è ovvio che nasce un problema di natura etica, perché la salute e il reddito, cioè l'economia, non sono sul medesimo piano. Io non posso dire, io rinuncio, come disse il capo di governo Johnson inglese all'inizio, cioè a febbraio e marzo dell'anno scorso, disse, va bene, sta succedendo questo, però noi non dobbiamo chiudere le imprese, le fabbriche per non andare incontro ad una diminuzione del PIL del prodotto interno lordo. Ma che discorsi sono questi? Infatti subito ha fatto marci indietro, perché glielo hanno fatto notare tutti. Tu non puoi fare un trade-off tra più reddito e meno salute, perché la salute, che vuol dire la vita, è un obiettivo di ordine superiore dal punto di vista etico rispetto a quello del reddito. Il reddito può essere recuperato, ma se uno muore per il Covid è chiaro che non è irrecuperabile. E questo è un errore quasi logico nel quale molti, anche in questa vicenda in Italia e all'estero, sono caduti, molti economisti, ovviamente in buona fede, abituati a ragionare in termini di trade-off tra un bene e l'altro bene, tra l'altro obiettivo appartenente al medesimo livello di discorso, lo hanno trasferito in questo caso. E i risultati sono stati piuttosto gravi. Perché? Perché in una prima fase l'Italia è diversa. Perché nella prima fase, quella di febbraio, marzo e aprile, venne subito adottato il lockdown, ma gli altri paesi non lo fecero, per l'errore di cui ho fatto. Il risultato è che sono aumentati i morti ed è diminuito il reddito. Quindi non c'è stato più il trade-off. In Italia invece la nostra antica saggezza ci ha almeno preservati. Perché facendo il lockdown si è diminuito in maniera consistente la diffusività, il contagio del virus. Ed è chiaro che sono risparmiate così vite umane ed è chiaro che il reddito era diminuito, ma meno di quel che sarebbe stato in caso contrario. Poi nella seconda ondata, cioè settembre dell'anno scorso, è stato fatto l'errore. E questo ancora nessuno l'ha capito. Perché l'Italia, che era partita bene alla prima ondata, quando è arrivata la seconda ondata, a seguito del fatto che durante l'estate tutti sono andati in vacanza, sapete, eccetera, non ha seguito la stessa strategia. Intanto è vero che il lockdown è cominciato alla fine di ottobre e quindi si era perso un mese. Occorreva invece alla fine di settembre fare un lockdown secco. Bastavano due settimane, come ormai gli studi più recenti ci hanno dimostrato. Quello avrebbe subito tagliato l'erba sotto i piedi della diffusività del virus e noi non saremmo qui oggi ancora a subirne le conseguenze. Questo per dire che quando nel livello del government non ci sono persone competenti, anche in economia, gli errori sono frequenti. È chiaro che ci devono essere i tecnici, i medici, l'ho già detto prima, epidemiologi, virologi, ci mancherebbe altro. Però occorreva anche che qualche economista saggio facesse presente considerazioni del tipo che vi ho fatto. Ecco allora queste sono le quattro grosse direi lezioni che la vicenda pandemica ci ha lasciato e sono certo che di queste faremo tesoro. La seconda adesso domanda è come se ne esce? Quali sono le vie di uscita dalla crisi nella quale siamo e ci siamo tuttora? Due. La prima è la via d'uscita nota come modello dell'alluvione. È una metafora. Quando c'è un'alluvione si aspetta che l'acqua rientri nell'alveo del fiume, poi delle squadre degli operai si mettono ad aggiustare gli argini del fiume e l'acqua continua a scorrere come prima. Questa è la via d'uscita favorita da coloro che parlano del business as usual, cioè dire si continua come prima. E infatti la metafora che viene utilizzata è quella del tunnel. Si dice adesso siamo nel tunnel, però intravediamo la fine e dopo torneremo a correre per stare alla metafora dell'autostrada come prima. Questa è una via d'uscita che ha molti seguaci. Purtroppo bisogna dirlo. Queste persone io spero che siano in buona fede, perché chi ragioni in questi termini sbaglia, sbaglia e sbaglia. Ed è un irresponsabile se se ne rende conto. Io voglio concedere che non se ne rendano conto, però l'errore è gravissimo. L'altra via d'uscita invece è quella nota come resilienza trasformativa. Voi sapete che la parola resilienza è mutuata dalla fisica e indica la capacità di un corpo, di un sistema di resistere agli attacchi che vengono dall'esterno. Quindi la resilienza è una prova di forza. Allora, in questo caso, cosa vuol dire aumentare la resilienza di un sistema di paese Italia, di cui stiamo parlando? Vuol dire aumentare le sue capacità di resistere a futuri attacchi. Perché voi dovete sapere che fra 9-10 anni scoppierà un'altra pandemia. Questo è già stato detto dai centri più diciamo blasonati della ricerca scientifica a livello internazionale. Questo bisogna che lo teniamo conto. Quindi quella attuale non è l'ultima pandemia. Ce ne saranno altre. Però non si sa ancora quali caratteristiche avrà la nuova pandemia. Se si tratterà di un coronavirus 19 o di un altro virus con altra denominazione, lo si saprà nel prossimo futuro. Allora, poiché dobbiamo attrezzarci a convivere con le ricorrenti pandemie che possano avere un, ripeto, intervallo di 10 o 15 anni l'una dall'altra. Bisogna che i sistemi economico e sociali si rafforzino al loro interno per far fronte a queste eventualità. E allora che cosa bisogna fare per aumentare la resilienza? Bisogna trasformare. Ecco perché si chiama strategia della resilienza trasformativa. Non basta riformare. Le riforme non servono. Le riforme servono soltanto, attenzione, soltanto nei tempi normali. Cosa vuol dire riforma? Vuol dire dare nuova forma a qualcosa che è rimasto immutato. Qui invece non si tratta di dare nuova forma, si tratta di cambiare pezzi del nostro sistema. E allora la domanda adesso diventa quali sono i pezzi che vanno cambiati e non semplicemente riformati. Ancora una volta per farmi capire a costo di una certa banalità. Se foro con la bicicletta e la porto dal ciclista, il ciclista mi dice qui c'è un forellino, ci metto una pezza. Però il ciclista onesto mi dice guarda che la tua camera d'aria è obsoleta, vecchia, logora. Ti conviene cambiarla, altrimenti fra qualche giorno dovrai tornare da me. Capite la differenza? Le riforme sono delle pezze. Le trasformazioni sono il cambiamento dell'intera camera d'aria. E allora quali sono le trasformazioni oggi maggiormente urgenti in un paese come il nostro? Primo, dobbiamo trasformare il nostro sistema fiscale. Ho detto trasformare, non riformare. Non bastano le riforme. Noi siamo andati avanti negli ultimi decenni a fare riforme su riforme, che non sono servite quasi a nulla. Qualcosa sì, ma troppo poco. E in che senso va trasformato? Nel senso che le tasse devono essere fatte pagare ai soggetti improduttivi, cioè ai percettori di rendita. In Italia invece pagano più tasse i salari e i profitti e molto di meno le rendite. Questa è una assurdità che grida vendetta. Perché sono i soggetti improduttivi, quelli che campano di rendita, che devono dare il più alto contributo, voi sapete che la tassazione è progressiva. Perché se io carico di tasse, salari e profitti, il risultato è che le famiglie ne soffrono e quindi si abbassano i consumi. I profitti pure ne risentono e quindi le imprese non fanno investimenti. E se non si fanno investimenti, capite subito quello che succede al tasso di crescita del sistema. Questo allora è il primo punto. Dobbiamo trasformare l'impalcatura, starei per dire, filosofica del nostro sistema fiscale. Secondo, dobbiamo trasformare il nostro sistema burocratico. La elefantiasi della burocrazia italiana è qualcosa che ci sta divorando. È il nostro cancro. È un cancro. Perché la burocrazia non solo comporta costi improduttivi, ma carica il mondo delle imprese e delle famiglie di costi aggiuntivi per i quali non ci sarebbe alcun bisogno. Qual è l'esempio più stupido? Stupido nel senso di veritiero. Quando voi provate a chiedere, forse voi no, ai vostri genitori, quando devono ricevere un pagamento, ti fanno riempire quattro moduli. Quando basterebbe mezza pagina? Già da lì uno capisce lo spreco di tempo, oltre che di risorse. Perché? Perché la burocrazia è strutturata in maniera tale che un ufficio si occupa di un modulo, un altro ufficio dell'altro modulo e quindi io, che devo ricevere un certo pagamento e devo ovviamente pagarsi sopra le tasse, devo riempire moduli su modulo. Questo è un esempio stupido, c'è ovviamente molto di peggio. Ecco allora perché dobbiamo rivedere alla radice il nostro sistema burocratico. Voi sapete quante sono le leggi in Italia tuttora vigenti? Tuttora vigenti, 160 mila. Sapete quante sono le leggi in Germania tuttora vigenti? Germania, 7500. Perché? Perché la burocrazia di che cosa si nutre? Cosa mangia? Mangia le leggi. Senza leggi ovviamente la burocrazia andrebbe a ridimensionarci. Quindi noi continuiamo, ogni volta che facciamo una legge, ci dimentichiamo di abrogare le leggi precedenti sullo stesso argomento. Il risultato è che ne abbiamo 160 mila. E voi capite questo cosa comporta in termini, come dire, pratici nel mondo delle imprese, ma anche delle stesse famiglie. Terzo, dobbiamo cambiare la struttura portante del sistema scolastico universitario. Questo è un affare serio. È un affare molto serio. È inutile che continuiamo a fare le riforme della scuola, non servono a niente. È l'impianto che va cambiato. Voi direte, e cioè, la nostra scuola e la nostra università ha come impianto ancora l'impianto tayloristico. Voi sapete cos'è stato il taylorismo? L'ingegner taylor, americano, 1911, anno di pubblicazione della sua opera fondamentale. Il taylorismo è entrato nell'industria. Ford fu il primo ad applicarlo ed è per quello che è diventato il primo produttore per tanti decenni di automobili, eccetera. E il taylorismo ha avuto grandi meriti dal punto di vista dell'efficienza, dal punto di vista dell'abbattimento dei costi, dell'aumento di produttività. Qual è il guaio? Che questa mentalità tayloristica è stata trasmessa, o se volete trapiantata, negli ospedali e nelle scuole. Le nostre scuole e le nostre università sono di impianto taylorista. E il guaio è che molti, anche gli stessi docenti, non se ne rendono conto. O meglio, se ne rendono conto e pensano che non ci sia l'alternativa, che sia una cosa ovvia. E invece non è così. Non è così. Agli altri paesi già da anni hanno cambiato l'impianto e si vedono i risultati. Perché? Perché il modello taylorista è basato sul principio di gerarchia. Come nei militari. Chi sta sopra ha sempre ragione e chi sta sotto deve obbedire, anche se l'ordine impartito non è quello giusto e così via. Ma in particolare perché il nostro sistema scolastico non mette in pratica il principio di conazione. Ricordatevelo questa parola. Che all'estero si usa già da anni in Italia e nessuno la usa mai. Conazione risulta dalla crasi tra conoscenza e azione. Il concetto di conazione viene introdotto per primo da Aristotele 2400 anni fa. E che cosa vuol dire? Vuol dire che la conoscenza deve essere messa al servizio dell'azione. E l'azione non può essere svolta se non sulla base di una previa conoscenza. Capito o non capito? Ecco allora il punto. Pensate quando alcuni anni fa è stata fatta la riforma della cosiddetta alternanza scuola-lavoro. È stato un disastro. Perché cosa vuol dire alternanza scuola-lavoro? Vuol dire che la scuola è alternativa al lavoro. Dopo abbiamo visto i risultati e li stiamo vedendo. Noi dobbiamo parlare di convergenza scuola-lavoro. Scuola e lavoro devono convergere. Perché non è possibile che prima si impari solo e poi dopo si fa come si dice in gergo la pratica. Perché quando arriva il momento di mettere in pratica il giovane, la giovane non sa fare niente. E dopo le imprese ti lasciano oppure ti fanno fare lavori non più adatti al tuo livello professionale. Ecco allora cos'è che va cambiato. E questo è possibile. Perché in alcuni paesi questo già è avvenuto o sta avvenendo. Quarta trasformazione importante è quella che riguarda la ripresa del tasso di imprenditorialità. Voi dovete sapere che negli ultimi vent'anni il tasso di imprenditorialità in Italia è negativo. Cioè sono più le imprese che muoiono di quelle che vengono alla vita. Quindi il tasso è negativo. E questo spiega il nostro declino in termini di produttività. Ma non perché manchi il capitale umano. Perché noi abbiamo le migliori teste. Lo sanno tutti questo. Anche i nostri giovani che vanno a lavorare all'estero ci li portano via. Perché sono bravi. Hanno intuizione, creatività. Allora la domanda è perché il tasso di imprenditorialità non torna a salire. E allora qui è in campo la quarta grossa trasformazione. Infine, perché vedo che il mio tempo sta per finire, la quinta grossa trasformazione è quella che riguarda il modello di welfare. Il modello di welfare state, state vuol dire stato, stato del benessere, oggi è obsoleto. Ha funzionato fino a 20 anni fa, oggi più o meno, oggi non è più in grado di funzionare. Bisogna sostituirlo con un modello più adeguato, cioè di welfare community. O di welfare civile, come a me piace chiamarlo. E l'idea di base del welfare civile è che Stato, mondo dell'impresa e mondo della società civile organizzata, il cosiddetto terzo settore, devono tra di loro cooperare in forza del principio di sussidiarietà. Oggi in Italia non c'è sussidiarietà, non c'è cultura, ed è questo il motivo per cui le cose non vanno come dovrebbero andare. Chiudo l'ora dicendo, avendo finito il mio tempo, è possibile questo? È chiaro che è possibile, perché sfido uno a dimostrarmi che queste cinque trasformazioni non possono essere realizzate. Perché per fare queste trasformazioni non ci vogliono soldi, eh? Anzi, si risparmierebbero. Quindi non date retta a chi vi dice mancano le risorse. Chi vi dice questo è un delinquente. E date pure la colpa a me. Dite che ve l'ho detto io e che si rivolgano a me. Perché poi con quelli rincaro, so come devo rincarare la dose. Perché si fa credere alla gente, soprattutto ai giovani, che certe cose non si possono fare perché mancano le risorse. Non è vero. manca la volontà. E in certi casi mancano le idee. Allora, chiamiamo le cose con loro nome. È meglio dire noi non vogliamo la resilienza. Non vogliamo trasformarci. Perché siamo dei conservatori. Questo uno può dirlo ed è rispettato. Non è accettabile chi, mentendo, fa credere che certe trasformazioni indispensabili non possano essere attuate per mancanza di risorse. Chiudo dicendo è lecito? Io dico di sì. Dico di sì. Perché, come ho detto in apertura, Seneca ha scritto, il grande Seneca, non si esce da una crisi allo stesso modo in cui vi sia entrato. Si può uscire migliori o peggiori? Io sono sicuro che usciremo migliori. Perché? Perché conosco l'animo degli italiani, conosco come siamo fatti, conosco la nostra mentalità e soprattutto conosco la volontà dei giovani di oggi, che sono veramente una ricchezza. Una ricchezza. Bisogna solo che si diano certe condizioni, certi, come dire, clic per far scattare un meccanismo di rinascita e soprattutto di avanzamento sulla strada dello sviluppo umano integrale. Questo è alla nostra portata ed è anche al tempo stesso l'augurio che io rivolgo a tutti voi e soprattutto dico date retta, studiate. Dove studiare vuol dire impegnatevi nella ricerca. Non state mai ad ascoltare solo una campana. Bisogna sempre ascoltare più campane. Perché un'orchestra produce armonia quando ci sono tanti strumenti diversi. Se fossero un'orchestra di un solo tipo di strumento non darebbe il suono o la musica che a tutti piace ascoltare. Grazie e veramente state in gioia. Gioia vuol dire il contrario della contentezza. Stare in gioia vuol dire sapere che la possibilità di cambiamento è nelle nostre possibilità e quindi è necessario ricorrere alla gioia per avere quella forza interiore che ci spinge a cambiare. Arrivederci e spero di incontrarvi da qualche parte, non sappiamo quando, però voi sapete dove rintracciarmi presso la facoltà di economia in piazza Scaravilli, qualora riteneste di avere che io possa essere di un qualche ausilio per voi. Arrivederci e tanti care auguri.